Allora, tre minuti dedicati a Fresonara, finalmente si parla di mangiare e di ballare, ritorniamo a vivere, a divertirci. Allora, vedo qua i preparativi. Cosa succede a Fresonara? Succede che da venerdì, sabato e domenica, ci sarà la tanta attesa Sagra del Fassone, che per motivi ovvi abbiamo sospeso per tre anni, perché come in tanti abbiamo avuto tutti i nostri problemi. Ma quest'anno ripartiamo alla grande, insieme a tutti quelli della cucina, le cuoche, che si sono già dati da fare per elaborare un menù che sia all'altezza del titolo della Sagra. Perché Sagra del Fassone cosa richiede? Ovviamente battuta, carni, filetti, grigliate, e poi seguirà anche un menù apposta per i vegetariani, perché abbiamo pensato che anche le persone che per scelta hanno scelto di non mangiare la carne, e anche perché non devono partecipare con noi e a divertirsi e a venire qui. Il campo sportivo di Fresonara è un posto che ha dato sia agli adulti per musica, perché si può ballare tranquillamente, ci si può sedere al fresco. I ragazzi hanno l'esposizione un campo da calcio dove possono scatenarsi finché vogliono. Quindi è una saga che è iniziata nel 2015 perché sembrava che fosse una piccola nicchia che non era ancora stata scoperta, forse, o valorizzata. E quindi anche, visto che in paese ci sono anche degli allevatori locali, abbiamo pensato uno con l'altro, magari può essere un modo per valorizzare quello che Fresonara ha. Ma quello è giusto, quello è giusto, valorizzare il territorio. Poi tutta la gente di Fresonara sicuramente verrà qua a aiutare i giovani, i giovani anziani, anche io quando ero ragazzo dico, ehi, domani inizia la festa, vado. Andare a lavorare alla Sagra vuol dire divertirsi, divertirsi, divertirsi. E alla fine mangiare, perché poi si mangia tutti quanti alla fine. Allora, diamo l'appuntamento al top per Fresonara, vai. Allora, vi aspettiamo venerdì, sabato e domenica, dalle 19 in avanti, alla Sagra del Fassone di Fresonara, e si cena anche in caso di maltempo, perché siamo al coperto. E quindi... Il posteggio c'è. Parcheggio grande e abbondante, quindi insomma... Non lamentatevi. Ci vediamo qua, allora, venerdì, sabato e domenica, qua a Fresonara, ci sarà anche lei che vi accoglie, e ci saranno soprattutto queste bellissime tavole imbandite. Che sto preparando per tutti voi. Grazie, grazie, vi aspettiamo. Con voi ci vediamo in tre minuti, io adesso cerco di farmela un po', così almeno mi dà un po' di carne, un po', a gratis, da buon genovese, bisogna farlo. Ci vediamo in tre minuti, ciao!